Ciao a tutti e benvenuti a questo video un pochino particolare, perché non si tratta né di un video dedicato a una recensione di film specifico, né tantomeno a classifiche, né tantomeno a film attesi, film visti, no, niente. È semplicemente un video chiacchierata, chiamano così, su tre film che negli ultimi mesi fanno molto parlare di sé perché stanno riscuotendo, al di là del successo del box office, che è sempre un po' ormai relativo anche a questo, ma al di là del successo del box office, stanno tenendo un successo di critiche, di apprezzamenti, di premi, il mostruoso, e parliamo di tre film veramente piccoli da un certo punto di vista, cioè piccoli da un punto di vista del budget, piccoli dal punto di vista dei nomi coinvolti, piccoli dal punto di vista anche di grandi registi che si sono messi a fare film veramente piccoli, letteralmente, cioè proprio anche intimi, e sono, per l'appunto, come si può vedere dal titolo, Past Lives, di Celine Song, Anatomia di una caduta, di Justin Tritt, spero di dirlo bene, Triat Bull Tritt, immagino, non lo so, e ovviamente Perfect Days, di Bean Banders. Questi tre film che ho visto, ovviamente in tempi recentissimi, mi hanno lasciato tutti e tre molte sensazioni, seppur completamente diverse, ma al tempo stesso, al di là delle sensazioni diverse, che ovviamente sono molto soggettive, c'è una sorta di fil rouge che lega questi tre film, e comincio dall'ultimo che ho visto, che è Perfect Days, Perfect Days, Bean Banders, ovviamente è un regista che non ha bisogno di alcun tipo di presentazione, un regista che per quanto mi riguarda non l'ho mai considerato, cioè non rientrerebbe nella rosa dei miei registi preferiti, non rientra nemmeno in una rosa di registi che amo riguardare, però ovviamente i suoi capolavori, cioè Cielo sopra Berlino, Paris, Texas, questa roba lì, è ovvio che un cinefilo o un esperto di cinema, uno che ha studiato cinema, deve per forza di cose conoscere. Poi lui si è dedicato per tantissimi anni ai documentari, ancora recentissimamente, ha fatto anche recentemente un documentario sul Papa, se ne dico una cagata, mi sembra di ricordare così, e gli ultimi film che aveva fatto, in tutta onestà, per quanto li abbia anche visti, forse ho saltato l'ultimo, ma quelli degli anni 2000 li avevo visti, mi ricordo Palermo Shooting, se non ricordo male con Giovanna a mezzogiorno e Danny Sopper, o anche The Million Dollar Hotel, erano tutti film che partivano da idee, da situazioni, da scene anche a volte, spesso e volentieri, affascinanti, ma che poi arrivavi alla fine, avevi sempre quella sensazione del manca qualche cosa. Quando sono andato a vedere le recensioni, i commenti di questo Perfect Days, ho detto, caspita, però non male, cioè sembrava essere ritornato a quell'unanimità di digradimento che mancava, a mio parere, da tantissimi anni, proprio da decenni, direi. Quindi, insomma, ero un po' curioso, anche per l'idea del film in sé, cioè il film ambientato a Tokyo, diretto, no, registrate dei suoi, dice, poco perché. Poi, vabbè, se uno conosce Wim Wenders e sa quanto Wim Wenders era un fan di Osu, sa quanto è stato importante Osu per la sua filmografia, quando aveva fatto il documentario negli anni 80 su Tokyo, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi non è una cosa così strana, è ovvio che se uno questa cosa non è sé, dice, ma perché devi fare un film su questa roba qua? Ho visto Perfect Days al cinema e, allora, partiamo dal fatto che Wim Wenders è una persona estremamente poetica, io ricorderò perenemente il giorno che era venuto da Fabio Fazio, parliamo di tanti anni fa, forse il decennio scorso, ma, intendo, i primi anni 2000, in cui aveva detto una roba su Fabrizio e di Andrè molto bella e che un popolo che non insegna di Andrè nelle scuole, un popolo che non conosce di Andrè, una gioventù che non conosce di Andrè è una gioventù senza futuro, in un paese in cui ovviamente di Andrè è nato, è cresciuto, è vissuto, eccetera. Quindi, sì, come dargli torto, d'altro canto, visto anche dove stiamo andando, direi che non aveva del tutto torto. E questo film, questo film che a me è piaciuto molto, mi è piaciuto davvero tanto, nella sua semplicità, nella sua intimità, un film con una poesia dentro mostruosa, è un film dove fondamentalmente non succede niente, la vita quotidiana di quest'uomo che pulisce cessi per campare, che ha scelto di vivere, diciamo, isolato, da solo. E di nuovo, io ho ripensato immediatamente a De Andrè perché la collana ispirata a Spoon River, quindi non al denardo, non all'amore, né al cielo, parla di come le persone che vivono di emozioni, che vivono di passioni, che vivono di relazioni, che vivono di coppie, che vi si tralimentano, finiscono tutti per crepare male o di infarto, di morti atroci, di qualunque cosa. L'unico che sta bene con se stessa e che campa fino alla vecchia è il suonatore Jones, quel tipo di persona che sceglie di fare tutto quello che vuole nella vita, ma senza lasciarsi trasportare dai piccoli disgrazi umani, e quindi vivere in un certo senso in disparte. Io ci ho visto tantissimo di questo personaggio nel film di Perfect Days, e infatti è un uomo che è contento della sua vita. Pulisce Celsi ed è contento, fa il suo lavoro e lo fa anche bene, non è che lo fa per campare, è il suo lavoro, è la sua missione, lui la fa bene. E c'è una scena bellissima della nipote che lo guarda con una sorta di tristezza, come dire, madonna zio come ti sei ridotto. Lo zio si gira, gli sorride, le sorride, e lei capisce che lui è contento, e a quel punto non hai più alcun diritto, cioè lui con quel sorriso ti distrugge, ti annulla tutto quello che tu puoi pensare di uno dopo i Celsi. Io l'ho trovato estremamente poetico. Poi, una delle cose che mi è piaciuto di più di questo film è il discorso fotografico-registrico che sposa in maniera parallela, ma al tempo stesso alla perfezione, il discorso narrativo. Perché? Perché noi vediamo tutti i giorni di quest'uomo, una settimana circa, non lo so, vediamo tutti i giorni lavorativi e della vita di quest'uomo. Lo scopo di quest'uomo è lo scopo del film è dirti nulla è uguale, tutto cambia. Anche la minima cosa ogni giorno lo rende unico, quindi va vissuto alla perfezione. E lui come obbio ha questa cosa di voler fotografare il sole tra gli alberi, la luce, e tutti i giorni ha fotografie diverse, perché tutto è sempre diverso. E questa cosa è rappresentata dalla regia, che non gira mai la stessa scena nello stesso modo, dalla fotografia che è sempre diversa, e da un montaggio che rende le giornate sempre diverse. Ci sono giornate che sembrano infinite, giornate che sembrano cortissime, e questo secondo me è una cosa straordinaria. straordinaria di un regista che comunque ha 80 anni, che è riuscito a trovare nell'ottica del quotidiano una favola, da un certo punto di vista, bellissima, dove non succede nulla, e dove al tempo stesso succede tutto, perché quello che rappresenta il film è la vita. Quindi la vita è tutto. Non c'è bisogno di sparatori, non c'è bisogno di azioni, non c'è bisogno di colpi di scena, non c'è bisogno di raccontare chissà quale dramma in evoluzione, quale rivoluzione all'interno della quotidianità. No, se c'è una regola nella narrazione, è l'entrata nel mondo straordinario di un personaggio, cioè tu presenti il personaggio col mondo ordinario, cioè la vita quotidiana del personaggio, che è quello che fa Vin Vanders qui, e narrativamente tu come spettatore o come scrittore devi poi inserire il cambio, cioè quel momento in cui il personaggio inizia la sua avventura, e tu come spettatore inizi l'avventura con lui. Qui non c'è, qui non c'è niente. E' un film dove vediamo il personaggio solo ed esclusivamente nel mondo ordinario, che è una decostruzione della sceneggiatura, della scrittura in sé, veramente spaziale, considerando che il film regge. Cioè io ho visto questo film che dura due ore, non mi sono annoiato un mezzo secondo, nonostante non succeda un beato cazzo. E i dialoghi sono ridotti all'osso, cioè ci saranno, non lo so, mi sembra di aver letto da qualche parte una quindicina di pagine di dialogo, ma secondo me nemmeno, perché scene di dialogare sono veramente poche, e ogni battuta è essenziale al significato del film, al significato di quella scena, non c'è mai una battuta di troppo. Mi viene in mente il personaggio di Giorgio Pasetti in Dopo Mezzanotte, di Davide Ferraio, che è un film che mi consiglio, in cui quando la protagonista dice, ma perché tu non parli? E lui risponde, perché non serve? Questo è un film dove veramente si ritorna al cinema per eccellente, cioè al cinema che parla per immagini, dove non importa la battuta, non importa il dialogo, non importa l'ironia, non importa niente, non importa lo sguardo, non importa il modo di muoversi, il corpo. È tutto un film basato su fotografia, regia e attore. E l'attore è incredibile anche perché regge ogni singolo frame del film. Tutto regge sulle spalle. Ha vinto a Festival di Gani, miglior attore, non a caso, perché è pazzesco, cioè veramente incredibile. Ha fatto una roba di mimica corporale incredibile. Il finale mi è piaciuto tantissimo. Mi ricordo al cinema che diceva, dai, chiudi così, chiudi così. E mi ha detto, non mi aggiungere un cazzo, perché era un finale veramente perfetto. A livello musicale, a livello anche proprio di inquadratura. E mi ha detto, no, devi chiudere così, non puoi aggiungere altro. C'è tantissimo, tantissimo di David Lynch in questo film, soprattutto nelle scene del sogno di notte. A livello di sound, nel dare risalto agli oggetti, alla bibita, quando lui beve, alle cassette che si inseriscono, alle chiavi appese. Cioè, ogni movimento estremamente naturale del personaggio, ogni rumore della natura, ogni rumore artificiale, qui è ripreso alla perfezione. E mi ricordo molto il lavoro di sound che aveva fatto Lynch su Twin Peaks 3, dove c'era un'attenzione agli elementi naturali e artificiali maggiore rispetto a quello del dialogo. E c'è molto nel sound quasi inquietante delle scene notturne e il rumore della città, che è essenziale. E di nuovo, secondo me, c'è tanto di quell'approccio lì. E c'è tantissimo della poetica di Terence Malick, che è un altro regista che io amo alla follia, e nella scena finale in particolar modo, soprattutto nelle scene delle riprese della città. Sembra di vedere gli ultimi film di Malick, The Night of Caps, The Night of Wonder, sembra proprio quella roba lì. E il finale con questo sole è un... è proprio poesia, è poetica allo stato puro, è poetica di Big Banders, ma non solo, secondo me c'è proprio tanto. C'è anche probabilmente un film dovuto anche all'età del regista, perché no? In cui rivedi, ripensi un po' la tua vita, ripensi a come l'hai vissuta, è inevitabile arrivare a quell'età lì e non guardarsi indietro. E ve lo consiglio, ve lo consiglio veramente un gran bel film. Non per tutti, non è un film facilissimo, perché è ovvio che va un po' decostruito, va un po' destrutturato, non è il film che vedi con una storia, con l'inizio, un svolgimento e una fine. No, è un film molto particolare, ma che secondo me merita di essere visto e secondo me rimarrà. C'è da dire che viviamo in un periodo in cui escono 5 miliardi di film, quindi è difficile stare dietro a tutte le uscite, però questo, se non rimarrà come filmone dell'anno, rimarrà comunque come tra i migliori film di Jim Banders, non ha nulla da invidiare a quelli che ho girato prima, dal cielo sopra Berlino a Paris, Texas, e documentari, ovviamente poi una vista social club, era il top, ma almeno tra quelli che ho visto io, ma questo veramente non ha nulla da invidiare e non ho parlato tanto dell'aspetto tecnico musicale, l'aspetto tecnico, la fotografia è bellissima, la scena sul fiume, sul ponte, se non mi ricordo dove erano, dove lui parla con l'ex marito di una sua amica, diciamo così, quella scena lì è fotografata, sembra quasi Michael Mann, lui alle spalle ha un Tokyo quasi decadente, l'altro alle spalle ha tutto il nero, le luci rosse, quindi tutto metropolitano, perché quell'altro ha vissuto nell'occidentalità, il nostro protagonista, no? E tutto il film punta a de-occidentalizzare Tokyo, in ultimani Tokyo è una metropoli, esplosioni, catastrofiche, paradori, c'è di tutto a Tokyo nei film, questo no, questo è Tokyo poetica, Tokyo di Osu, per l'appunto, e ricorda molto viaggio a Tokyo, nella sua semplicità, nel modo di raccontare una storia veramente molto esile, dove non succede praticamente niente, ricorda veramente molto quel cinema, e ricorda quel cinema anche per la decostruzione che Osu fece delle quadrature, della fotografia, della struttura narrativa, cioè perdeva le regole, le cestinava, e questo film fa di queste regole un modo per reinventare qualcosa, non reinventa nulla, ma ti dà una chiara visione di come le regole possono ancora essere sovvertite, di come possono a volte dare delle migliorie a una storia che fondamentalmente, ripeto, non ha assolutamente nulla da raccontare, semplicemente è una fotografia della vita di quest'uomo, ma di ognuno di noi, c'erano persone dopo la visione del cinema, dicevano, ma donna, a me non è piaciuto perché mi ha messo un'ansia tremenda e l'ho visto la mia vita, e quindi ti viene ansia perché dici, ah beh, mi sveglio, lavoro, torno a casa, mangio, vado a dormire, mi sveglio, lavoro, torno a casa, ma purtroppo la vita di tutti noi è questa qua, quindi a parte i pochi eletti, la nostra vita è questa. Passiamo a un altro film, cioè Anatomia di una caduta. Anatomia di una caduta, film, come dicevo prima, di Justin Tritt, della quale ho visto solamente un altro film, cioè credo quello prima di questo, che era un thriller, anche quello un po' psicologico, un po' come Anatomia di una caduta. Allora, parlare di Anatomia di una caduta e parlarne in maniera, diciamo, senza fare grandi spoiler, cosa che vorrei non fare, perché è un film, diciamo, molto recente, non è facilissimo, perché Anatomia di una caduta fondamentalmente è la storia di un bambino, figlio di una coppia, che torna a casa, un bambino cieco, che torna a casa, trova il corpo senza vita del padre, chiama la mamma, l'autopsia non riesce a redeterminare se quest'uomo si è suicidato o se è stato ucciso, e quindi inizia, per la polizia, un processo alla mamma, ovviamente alla moglie, come omicida, e tutto il film è un processo a questa mamma. Quindi fondamentalmente la trama è questa qua. Film che è stato acclamato in tutto il mondo, ha vinto già a una valanga di premi, ha vinto anche, credo, agli Oscar francesi, per così dire, ha vinto, lei l'attrice, praticamente, ovunque è stata candidata, è candidata agli Oscar, il film è candidato a diversi premi Oscar, sceneggiatura originale, attrice, regia, film, insomma, c'ha un botto di nominations, e meritate? Sì, secondo me sì. Allora, cercherò di nuovo di costruire il film senza raccontare nulla. Allora, la cosa che più a me ha affascinato di questo film, in realtà ce ne sono diverse, ma quella che mi ha proprio più colpito è la banalità del soggetto, cioè, ok, c'è un omicidio, non sappiamo direvi se è morto perché si è suicidato o è morto perché l'hanno ucciso, non riusciamo a capire da com'è caduto. Sembra che sia caduto a una finestra, ma sembra anche che sia stato colpito, non si capisce bene. Quindi inizia questo processo. L'anatomia di una caduta però non è quella del corpo fisico e della successiva morte del personaggio, ma l'anatomia della caduta che verrà analizzata lungo tutto il film è l'anatomia della caduta della coppia. E in questa coppia, secondo me, c'è chiunque. Perché riesce, nell'ambito delle sue due ore e venti, perché era abbastanza lunghino, a farti bene o male, almeno una volta all'interno del dialogo, delle interrogazioni, degli interrogatori, a fartici medesimare con uno dei personaggi del film. È difficile riuscire a non dire io forse sarei quella lì in questo momento. C'è una scena in cui ho gridato al capolavoro, ero sdraiato sul divano, l'ho visto in Blu-ray, ero sdraiato sul divano. Inizia questa scena, però vi dico qual è? Mi alzo, mi siedo e la guardo. Perché non riuscivo a... Cioè, ero talmente preso dalla bravura degli attori, dal dialogo, dalla regia molto semplice, la regia fa proprio un passo indietro per raccontarti questa roba, ma è talmente incalzante quella scena che ho detto Madonna mia, che roba che sto guardando. Ed è poco dopo la metà, proprio secondo me quel classico midpoint del film. E la scena di cui parlo è una scena in cui, vabbè, assistiamo, siamo nell'aula del tribunale, stanno interrogando la moglie, parte una registrazione, cioè fanno sentire la moglie come prova una registrazione effettuata dal marito di una loro litiga. Senza andare a fare grandi spoiler su perché c'è questa registrazione. Però, parte questa registrazione. Sentiamo la registrazione partire come se fossimo una delle persone che assiste al processo. Poi entriamo nella testa di lei e quindi rivediamo la litigata. E vediamo questa litigata bellissima, perché parte lentissima, parte quasi come se non stesse per scoppiare la litigata. È una roba del tutto normale. Lui lo vediamo che vuole tirar fuori qualcosa da lei. Lei è tranquilla, cerca anche addirittura di rincuorarlo, di starle vieto, si dicono ti amo. Cioè, non sembra inizio di una litigata. Nell'arco di, non lo so quant'è durata, perché per me è volata, ma mi sembrava abbastanza lunga, di, boh, mettiamo cinque minuti, quella scena decolla, diventa in alta completamente. E la cosa geniale è che quando la scena finisce, noi siamo già di nuovo nell'aula del tribunale, nel senso che noi vediamo questa lite per, mettiamo, cinque minuti, la lite poi continua, ma la sentiamo finire dall'aula del tribunale, in cui sentiamo rumori, piatti che si rompono. Di nuovo, quindi, come gli spettatori del tribunale, non sappiamo se questi piatti, chi li ha tirati, chi non li ha tirati, chi ha picchiato chi, noi abbiamo solo la versione della moglie che in quel momento dice no, io ho fatto questo, lui ha fatto quello, ma non possiamo sapere esattamente se lei sta dicendo la verità o no. Tutto il film è basato su questa cosa qua e il fatto che sia più o meno a metà del film nel midpoint e che racchiuda tutto il significato è wow. Perché? Perché tutto il film gioca sul fatto che in un processo la verità non esiste. Esiste un'opinione, esiste la fantasia. Noi abbiamo, sappiamo che è successo questo e sappiamo che è successo questo. Sono dei fatti. Tra il secondo fatto e la conclusione manca qualcosa e questo qualcosa può riempirlo solo quello che noi pensiamo ma non ci sarà mai un fatto che ti dice questo è colpevole e questo non lo è. E tutto il film è così e anche il finale del film senza fare spoiler di nuovo è in pieno dubbio. Ci sono un voto di editori diversi. Io ho letto mai un centinaia di editori diverse da quello che vede del piccolo dettaglio che dice no, è successo questo non è successo quell'altro. Secondo me il film vuole essere proprio il dubbio perché c'è una critica molto profonda ai processi al modo di processare le persone qui veramente quando non c'è la prova definitiva è una giuria che sceglie e la giuria non può fare altro che riempire gli spazi mancanti con la propria fantasia con le proprie idee sulla base di quello che uno ha visto durante il processo. Ti viene da chiederti quante persone sono state accusate innocenti e quanti innocenti sono stati rilasciati che erano col peori non lo so io mi sono fatto un botto di viaggiorni in questo film senza contare altre due cose che mi hanno affascinato tantissimo che sono nella nella struttura narrativa ma non nella storia proprio nella nella volontà nel nel sottobosco del film la prima è l'aspetto linguistico parliamo di lei tedesca marito francese lei va a vivere nel paesino dove è cresciuto lui quindi vediamo già una sorta di accondiscendenza a Malta in postesso entrambi provano a parlare inglese crescono il figlio con la lingua inglese è una sorta di compromesso di punto di incontro e tutto il film l'aspetto linguistico ha un aspetto potente anche all'interno della narrazione anche all'interno proprio dell'evoluzione della storia perché lei racconta ricome ha deciso di di andare incontro all'esigenza di lui per alcuni aspetti che non vi dirò ma che l'imparare l'inglese e non parlare la sua lingua è importante in alcune decisioni che il personaggio ha preso che spesso poi le viene rinfacciato è difficile dire ha ragione lei o ha ragione lui il padre e marito ha un fortissimo senso di colpa perché ha causato la cecità del figlio in un incidente quindi da quel punto di vista lì uno dice si è suicidato per quel motivo lì ma poi durante le litiga con la moglie vediamo che forse la moglie non è esattamente così accondiscendente nei confronti del marito come molte cose ti fanno sembrare ti fanno passare il personaggio così è un film dove veramente nessuno sa esattamente cosa c'è dietro alla testa dentro alla testa di un personaggio mi ricordo l'inizio di Gang Girl di David Finch in cui viene detto proprio questo è una scena molto tenera in cui Ben Affleck accarezza la testa di Rosamund Pike e poi dice mi piacerebbe aprire con la testa vedere cosa c'è dentro vai a capire cosa c'è dentro perché nessuno di noi sa esattamente cosa ha nella testa quell'altra persona cosa pensa è il dubbio il dubbio domina tutte le relazioni domina qualunque sentimento e questo film è tutto un film sul dubbio cioè poteva tra la mente introvarsi il dubbio che andava assolutamente e poi per carità il titolo è geniale questa caduta di questa coppia graduale che vediamo durante il film è veramente molto bella e il finale io l'ho adorato l'ho adorato per quanto mi faccia incazzare e forse l'ho adorato per quanto mi ha fatto incazzare però ovviamente non voglio dire nulla che dire come conclusione è un film veramente molto bello di nuovo non aspettatevi un film ricco di eventi perché poi è un classico legal drama molto lento dove non c'è musica per due ore di film ce n'è veramente poca anche perché la musica di nuovo un po' come la lingua ha un ruolo importantissimo all'interno del film e la scena iniziale mi ha ricordato un caso di tantissimi anni fa letto da un libro da un brevissimo racconto di Carlo Lucarelli che aveva poi scritto quello stesso episodio su una puntata di stretto di polizia ispirato a un caso di cronaca accaduto a Bologna in cui non voglio raccontarlo perché poi lo svolgimento può essere anche ispiratore per quello che poi succede nel film però era un qualcosa diciamo dovuto al rumore senza andare a fare grandi spoiler di nuovo e quella scena iniziale di Anatomy di una caduta dove la musica ha un ruolo molto importante è un mi ha fatto pensare a quella cosa lì e ho detto magari va in questa direzione e poi effettivamente il film non dico che va in quella direzione ma potrebbe andarci perché poi ho il dubbio che ci vada o non ci vada è veramente complicato dire è successo questo è successo quello c'è poi un momento in cui il bambino racconta una determinata cosa e rimanda tutto il film da tutta l'altra parte ma è un racconto del bambino è successo? non è successo? chi lo so non lo sapremo mai un'altra cosa ricevo nel sottoposco del film che ho amato tantissimo è la cecità del bambino banalmente ha avuto un incidente è rimasto cerco fantastico ma nel collegamento se vogliamo farlo un po' freudiano del collegamento che ci può essere tra Edipo e i suoi genitori anche qui secondo me c'è una decostruzione c'è un ribaltamento del mito di Edipo veramente affascinante che ora non voglio annoiare nessuno con questa analisi ma io ho studiato un po' di anni fa perché avevo fatto una miniserie online su questa storia e la la cecità della voglia del conoscere la voglia a tutti i costi di sapere la verità ha reso cieco Edipo e in un certo senso la voglia del dubbio di risolvere ogni dubbio di capire quello che succede dentro questo film anche qua non voglio fare grandi spoiler quindi ha notte bene una caduta film assolutamente consigliato mi è piaciuto più di Perth Days forse no per quanto è un film più classico da un punto di vista narrativo e più facilmente seguibile la poesia di Wim Benders onestamente l'ho preferita questo film qua però è ovvio che è un parere molto 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 soggettivo si parla di due grandissimi film ma passiamo al terzo Past Lai e infine per l'appunto Past Lai il regista Celine Song film che ho visto semplicemente a causa del passaparola che c'è stato negli ultimi tempi l'ho visto prima in realtà dell'uscita italiana l'ho visto in lingua originale che consiglio vivamente di non vedarlo doppiato perché un po' come Anatomia è una caduta la lingua ha un ruolo molto importante quindi secondo me sono un po' i film che andrebbero visti in lingua originale ma non perché sono fan della lingua originale non voglio aprire dibattito o doppiaggio ma perché semplicemente l'aspetto narrativo è linguistico un aspetto importante all'interno della trama del film Past Lai è la storia molto semplice di due bambini che si piacciono fondamentalmente cresciuti assieme che poi per motivazioni politiche per motivazioni economiche per una stia definita di motivazioni la bambina si trasferisce in America e i due si separano dopo tanti anni lui la cerca su Facebook lei se ne accorge i due decidono di risentirsi si rivedono ovviamente le loro vite sono andate molto avanti lei si è riscusata lui ha fatto la sua vita è stato militare insomma ognuno ci ha fatto la sua la sua storia e queste storie si rispiorano per un attimo e il film alla fine ti racconta questo momento in cui si rispiorano in cui si rincontrano in cui si raccontano in cui vedono l'uno nell'altro quello che avrebbero potuto essere quello che sarebbero potuti essere e che non sono stati e che probabilmente non saranno mai allora tra i tre film di cui ho parlato in questo video è quello che mi ha entusiasmato di meno e non so se è un paradosso o meno forse è quello che online ha riscorso di successo allora è sicuramente il film tra i tre più semplice cioè ha una storia molto accessibile è molto corto rispetto agli altri due almeno un quarto d'ora in meno di Perfect Days e 40 minuti meno di un attimo di una caduta questo lo rende sicuramente piacessibile ho visto che è stato un successo anche al box office italiano che fa veramente piacere perché vuol dire che ci apriamo anche a mercati che non sono strettamente italiani o americani questo ovviamente è positivo e in realtà anche un attimo di una caduta e Perfect Days sono stati questo è molto bello però il film secondo me deve essere molto bello cioè è uno di quei film molto immediati cioè non so come spiegarlo lo vedi ti entra subito perché ti entra finisce ti lascia sicuramente delle belle sensazioni ed è un film che potresti rivedere tranquillamente anche il giorno dopo perché non è un film pesante non è niente è molto bello è molto scenografato bene fotografato bene la regia è bella gli attori sono bravi ma a mio parere non è quel capolavoro che tutti stanno esaltando un po' perché la storia l'ho già vista raccontata così in centinaia di altri lavori e persino in serie tv ci sono episodi che trattano questa tematica ovviamente in maniera non così però la storia non mi ha detto nulla di particolarmente eclatante la messa in scena è molto bella ma non l'ho trovata così bella da poter definire il film un capolavoro per carità divina capolavoro non lo sono secondo me neanche gli altri due ma sono due film veramente molto belli e soprattutto originali per molti aspetti questo non l'ho trovato così originale per carità può essere un parere mio può essere che magari semplicemente mi ero fatto io troppe aspettative sul film perché qualunque recessione dava a leggere ma non parlo solo di critici parlo proprio di spettatori capolavoro 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 bellissimo 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 sì è un bellissimo film questo nessuno può dirgli niente se devo esprimere un giudizio in un vuoto li darei tranquillamente un 7 all'8 un 8 per carità è un bel film per me gli altri due ho ancora la cosina in più proprio un po' la cosina in più da un punto di vista sperimentale dal punto di vista della messa in scena dal punto di vista della scrittura dell'interpretazione anche questo ripeto è un bellissimo film che rivederei molto volentieri e lo rivederò sicuramente probabilmente lo comprerò anche ma non è questo grandissimo capolavoro tutto qua quindi credo che sempre a parere di chi parla il film andrebbe un pelino ridimensionato o forse andrebbero ridimensionati un po' questi commenti entusiastici quando si trova di fronte a un bel film che però altro non è se è un bel film secondo me ci sono film molto più belli di quest'anno usciti nel 2023 che risaltano su questo film qui e che magari meritano maggiormente l'appellativo capolavoro che poi di nuovo capolavoro è sempre un po' complicato il capolavoro può essere non anche il film perfetto che è raro o può anche esistere ma il capolavoro lo si può definire tal secondo me se sopravvive alla prova più dura cioè quella del tempo se tra 20 30 anni 40 parleremo di past lives come un capolavoro allora sarò il primo a dire se sono ancora vivo ne dubito di dire ok è un capolavoro sbagliato mea culpa ma non credo perché secondo me non c'ha nulla di così eclatante non c'ha nulla di così originale da essere ripreso e rivisto come un film capolavoro mentre magari altri film negli anni potranno avere ancora maggiori rivalutazioni questo a mio parere no la cosa che ho trovato più interessante in questo film che non sempre si vede è la questione del triangolo amoroso cioè il triangolo amoroso per modo di dire poi effettivamente non c'è mai un triangolo amoroso però il marito di lei tendenzialmente in questi film il terzo incomodo quello che diciamo lo spedatore tendenzialmente non vuole che stia con la protagonista o con il protagonista se è una lei è antipatico perché almeno hai poi un motivo a brodiarlo che spinge ancora di più la tua volontà di spedatore nel sperare che questi due si mettono insieme invece il marito lei è un ragazzo di tutto corretto simpatico gentile e sarà banale però è una cosa che raramente si vede al cinema e raramente si vede nelle storie di solito il terzo è sempre antipatico antipatico brutto stronzo insomma c'è sempre un motivo per odiarlo invece no non è che deve essere così poi una può amare il primo amore per sempre ma può anche stare con una persona che non sia solo uno stronzo o che può provare qualcosa di diverso questo è un po' uno sdoganamento di un dogma che purtroppo nel cinema nelle storie nei libri esiste da secoli e il terzo deve essere sempre antipatico io mi ricordo la prima volta che ho visto in un grosso film in un grande film questa cosa qua ed era Superman Returns che è un film a mio avviso molto sottovalutato che presentava nei panni di Richard White se non ricordo male era il figlio di Perry White che era il nuovo marito di Lois Lane che quindi Lois Lane deve stare con Clark Kent non deve stare con Superman questo è è l'essenza del personaggio di Lois Lane questa cosa fu criticatissima lo dice lei incolonato perché lui se ne è un po' sta comunato vabbè comunque Richard White non era interpretato da James Marsden non era un personaggio cattivo o stronzo o antipatico era un bellissimo personaggio che addirittura che addirittura nel finale salva Superman e quella cosa lì per me era la cosa più bella del mondo cioè perché era l'uomo che salvava il super uomo ed era molto bella perché avevano umanizzato Superman in quel modo lì e avevano fatto un personaggio nuovo marito di lei che in un certo senso era un personaggio che non non spingevi per Lois Lane Superman perché era un bellissimo personaggio perché doveva mollare lui per stare con Superman e nel finale Superman e la serie se non accettano questa cosa l'accettano magari come all'inconia ovviamente perché anche loro un po' come la coppia di Fast Lies non erano una coppia cioè non sono mai state effettivamente una coppia e non hanno mai visto cosa sarebbe potuto succedere ma ormai è successo così in realtà così la vita è anche questa e questo è l'aspetto che più mi è piaciuto di questo film se nel finale fosse finito tutto a rosa tutto a rosa e fiori i tavolini tutto a festeggiamenti no sarebbe stata una strozzata volossata però ripeto non è una cosa così nuova per l'appunto c'era già stato un blockbuster che infatti fu massacrato perché quando tocchi le coppie e fanno dei fumetti si incazzano come non so che cosa e quindi figuriamoci povero Branson comunque vabbè detto questo chiudo un po' questo video dicendo che quello che mi è piaciuto di più è sicuramente Perfect Days seguito da Natomedia di Una Caduta e da Past Lives non volevo metterli in classifica però effettivamente li ho messi in classifica senza saperlo il mio inconscio ho parlato per me e li rivedrò tutti e tre questo poco ma sicuro sicuramente quasi sicuramente li prenderò tutti e tre Perfect Days in particolar modo perché voglio rivederli in 4k sullo schermo quelle luci con il sole cosa fanno insomma l'HDR e Dobby Vision spareranno non c'è tanto andare Anatomia di Una Caduta aspetterò un po' perché comunque mi ricordo è molto vivo aspetterò almeno 5-6 mesi probabilmente lo rivedrò mentre Past Lives per quanto sia un spinga a vedere la lingua originale perché ripeto l'aspetto narrativo-linguistico è importantissimo sono curioso di rivederlo però in italiano quindi anche per godermi di più le immagini perché ovviamente leggendo i sottotitoli non sempre riesce a vedere tutta l'inguaratura soprattutto su uno schermo grosso quindi voglio rivedermi in italiano per godermi maggiormente l'esperienza detto questo io vi ringrazio e vi saluto spero di aver fatto cosa gradita parlando di questi tre film e niente alla prossima ciao ciao ciao